allora buongiorno buona pasquetta a tutti e anche buon primo aprile quindi attenzione a qualche scherzetto questo non è uno scherzetto in realtà una recensione abbastanza semiseria di un disco di cui ho già parlato abbastanza recentemente però visto che sempre il mio caro amico lost mi tiene al corrente di tutti i compleanni dei grandi dischi mi fa sapere e giustamente che questo disco qua a destra dei piron the mother of virtues la madre di tutte le virtù è oggi esattamente il decimo anniversario della sua uscita quindi uscì il primo aprile 2014 adesso siamo primo aprile 2024 è veramente passa il tempo perché posso dirlo anch'io che insomma l'ho comprato esattamente all'uscita quindi sembra ieri che l'ho comprato invece sono passati dieci anni ma vabbè tempo sfuggite si sa insomma via è tutto tranquillo del gruppo già un po accennato nella recensione di qualche giorno fa vabbè ripeto brevemente quartetto di new york tra i più e all'avanguardia di tutta la storia del metal sicuramente uno dei più avanguardisti degli ultimi vent'anni e in questo disco particolare che viene dopo un mini di un paio di anni prima loro si formano nel 2008 il mini del 2011 mi pare che io poi magari ripresenterò insieme alla recensione dell'altro disco che mi dovrebbe arrivare forse domani e loro si misero sub in luce come la corrente quella proprio più estrema ma estrema non tanto a livello sonoro del death metal mad core proprio della più complicata della più zorniana ecco potremmo dire della la frontiera più più avanguardistica più meno legata proprio a un cliché infatti nei nove brani che contengono questo mastodontico capolavoro e qui si può proprio scomodare la parola capolavoro specialmente dell'ultima pezzo nella title track del disco si avvertono influenze inimmaginabili per un gruppo metal sono un gruppo death o matt core come lo potete chiamare voi cioè io ho sentito dentro addirittura delle cose del tipo della now wave della new york fine anni settanta inizio ottanta quindi anche i mars anche i teenage jesus fin anche delle cose un po glen branca ci sono delle varie influenze e il mio amico francesco ci ha sentito anche un po di insane che ci sta perché fa anche quella roba lì ci potrebbe anche essere anche poi il primo rock industriale di fetus è tutto un bel un bel discorsetto insomma un bel frullatino da buttare giù tutto un sorso ecco questo devo dire la verità che lo dico a tutti e francesco è abbastanza neofita nel metal questo disco qua è il primo disco metal forse realmente avanguardistico che ha ascoltato e se ne è innamorato a primo amore quindi c'è al primo ascolto lui si è innamorato di questo disco qua e di questo tipo di metal qua trapassando cioè io credo lui neanche sappia che siano gli aromaten giusto è subito passato a questo ha allevato lo step di mezzo il che mi pare veramente veramente ottimo invece lì a sinistra vedete un disco che io ve lo ripropongo ancora perché vedo che la ricezione non è tanto ben partita non ho capito perché è il primo album degli zombie in un duo di pittsburgh che usano synth e batteria suonata che rivedono in chiave post moderna ma in maniera del tutto loro e non olografica le colonne sonore di goblin di fabio frizzi e di john carpenter e creando degli scenari tra i corrieri cosmici specialmente di claus schultz ma anche di elettroniche più evolute come morton su botanic e classicamente sì un po i facimenti anni 70 ma ben fatti non olografici di colonne sonore tipo zombie oppure bui omega tutte le colonne sonore di claudio simonetti quando stavano i goblin e per me disco molto carino non è per niente metal casomai un po progressive però i progressivi dei goblin non quindi progressivi di king crimson ma io non so perché non ha interessato nessuna recensione perché tutti appassionati film horror questo dovrebbe essere io la ributo la zombie cosmos relapse 2004 allora il disco 24 questo è esattamente vent'anni fa e questo a destra esattamente dieci anni fa e niente ridedico ancora queste recensioni all'amico lost e all'amico francesco e ci sentiamo e buona pasqua a tutti francesco are